Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo la fiducia nel Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo l'agenzia Tecne Dire Monitor Italia. Con i voti da 1 a 5, chi non ha fiducia, crescono dello 01 al 53,3%, mentre con voti dal 6 al 10, chi ha fiducia, scende dello 02 al 39,8%, mentre chi non sa o non risponde, cresce dello 01 al 6,9%. Questa è la differenza rispetto alla settimana precedente. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.